Al via la decima edizione della stagione concertistica Capitanata in Musica, organizzata dall'Associazione Musicale Mozart di Torre Maggiore e San Paolo di Civitate, in collaborazione con l'amministrazione comunale Torre Maggiorese. Quest'anno l'associazione festeggia i suoi primi dieci anni di vita, un traguardo significativo ma anche un punto di partenza per nuovi progetti e nuove collaborazioni artistiche. In questi anni abbiamo proposto al nostro affezionato pubblico di melomani talenti locali e importanti artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, afferma il direttore artistico Angela Trematore, che prosegue. Abbiamo selezionato programmi musicali per tutti i gusti e per un pubblico, il nostro, sempre più eterogeneo. Questa edizione 2018-2019, ancor più rispetto alle precedenti, sarà l'insegna della musica e dell'arte in tutte le sue sfumature, con uno sguardo rivolto alle eccellenze del territorio, in campo artistico ed enogastronomico, alla loro valorizzazione, alle giovani promesse italiane e agli scambi culturali con altre realtà estere. Da ottobre a maggio, nove appuntamenti in calendario. Si comincia sabato 20 ottobre alle 19 presso la Sala delle Udienze del Castello Ducale de Sangro di Torremaggiore, allorquando si terrà l'inaugurazione della decima stagione. Un evento per presentare la programmazione, una occasione per festeggiare l'associazione e per presentare in anteprima Olio e Contorni, l'evento dedicato all'Olio e all'Oliva di Peranzana, organizzato dall'amministrazione comunale di Torremaggiore dal 26 al 28 ottobre. Un grande inizio di stagione, con un weekend scoppiettante all'insegna della grande musica e della promozione del nostro territorio e delle nostre eccellenze enogastronomiche, quali l'olio e l'oliva di Peranzana, commenta l'assessore alla cultura Maria Pia Zifaro. Unire cultura, musica, marketing territoriale, cibo, salute è la strada da seguire, per portare le nostre specificità al di fuori dei confini cittadini e farli apprezzare ad ampie fasce di pubblico, conclude l'assessore Torremaggiorese.